Uno dei temi che Dante affronta in questo canto è il rapporto tra letteratura e vita. Ed era un tema importante ed era un tema fortemente attuale nel momento in cui la letteratura, soprattutto quella del 200, in particolare quella che va dalla scuola siciliana ai poeti toscani, a Guinizelli fondatore dello stilnovismo e poi ai poeti fiorentini e toscani che avevano seguito questa nuova tendenza, Dante incluso, avevano messo al centro della loro attenzione temi della vita comune, come il tema dell'amore, e sulla base di questi temi avevano fondato dei nuovi valori. Allora il rapporto tra letteratura e vita era diventato un rapporto importante, centrale, e Dante lo affronta in questo canto. Paolo e Francesca sono indotti al loro peccato, sono indotti al primo bacio, a quel che segue evidentemente da una lettura, dalla lettura di un romanzo alla moda, il romanzo di Lancillotto e Ginevra. L'amore, anche quello colpevole e incestuoso di Lancillotto e Ginevra. Ma che differenza c'è tra una lettura, tra il racconto letterario di un'avventura e invece la vita? Dante, come avviene alla sua grande capacità artistica, lo esprime, lo rappresenta, lo indica tutto nel contrasto tra la scelta lessicale. Se noi guardiamo proprio la conclusione dell'episodio, andando ai versi conclusivi, vediamo che Francesca racconta del momento in cui, leggendo lei e Paolo insieme, leggendo a voce alta, come era abitudine nel Medioevo, del racconto del primo bacio di Lancillotto e Ginevra, anche Paolo e Francesca, che avevano identificato la propria storia con quella dei due amanti proibiti, si baciano. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Ecco, è evidente che da una parte abbiamo il disiato riso di Ginevra, disiato riso, espressione splendida, che vuol dire la bocca ridente desiderata, il riso desiderato, però chiamare la bocca ridente di Ginevra riso vuol dire da parte di Dante, attraverso una metonimia retoricamente, utilizzare un termine astratto, il ridere di Ginevra, per indicare un oggetto concreto, la bocca che ride. Mentre invece quando si tratta della bocca di Francesca, la vita, non la letteratura, Dante utilizza una parola che è di derivazione assai più bassa da un punto di vista lessicale e perfino proibita ai poeti raffinati, la parola bocca, che viene dal latino basso, tardo e plebeo, bucca. La bocca mi baciò tutto tremante. Ecco, il contrasto, la differenza che c'è tra la aerea sublimazione letteraria di disiato riso e la carnalità tutta terrene e realistica di bocca è il contrasto morale che esiste tra la letteratura e la vita. E di conseguenza l'accusa più esplicita è la colpa di aver confuso la vita con la letteratura e di aver conformato la vita alla letteratura.